Scusi Lando, perché lei canta soltanto canzoni romane? Ma io canto le canzoni romane perché intanto sono le canzoni che sento di più e credo che quando uno canta quello che si sente dentro riesce sempre a trasmettere qualcosa di più e poi è da anni che io canto le canzoni romane anche quando nessuno le seguiva perciò l'ho cominciata a cantare, sono rimasto fedele a questo genere pure quando venivano assente in 10-12 persone e mai lo abbandonerò seguiterò sempre a cantare le canzoni romane, è per questo Romano di Roma, anzi di Trastevere, nel 1968 apre nel suo rione natio il PUF locale di cabaret e sperimentazione, vero e proprio laboratorio di idee nel quale si esibiscono molti celebri comici italiani in oltre 50 anni di carriera Lando Fiorini ha raccontato attraverso i suoi brani una Roma generosa e sincera, cantando con garbo dei suoi vicoli e dei genuini personaggi che li popolano e diventando la voce di Roma se te volesse pitturare butta tutti i pennelli e sta a guardare grazie grazie grazie